Ben ritrovati e ben ritrovate, care elettrici di Pantheon, è uscito il nuovo numero della rivista. Oggi, primo luglio, apriamo con la copertina dedicata a Damiano Tommasi, nuovo sindaco di Verone. Ha stato un periodo molto intenso anche per noi della redazione per questa tornata elettorale che ha avuto anche dei toni accesi. Sicuramente c'è stata una tensione particolare, si è arrivati poi alla fine del ballottaggio lo scorso 26 giugno con la vittoria del candidato di centro-sinistra. Un Damiano Tommasi che ha svolto una campagna elettorale un po' sui generis, poco urlata e poco patinata, ma che probabilmente è entrata anche nel cuore di molti veronesi perché ha ottenuto più di 50.000 preferenze. Fermo a 43.000 preferenze invece l'ex sindaco ormai Federico Sborina che ha riconosciuto subito la vittoria dello sfidante e con un grande fair play anche gli ha telefonato la sera stessa della vittoria consegnandogli in mano una città che lui stesso ha definito in buona salute. E all'interno di Pantheon appunto troverete l'articolo dedicato, anzi l'intervista dedicata a Damiano Tommasi che dice Sogno una Verona europea. Questo è il titolo ma troverete anche un po' la composizione del nuovo consiglio. Le nomine non sono state ancora fatte di assessori e soprattutto i deleghe ma sappiamo già chi appunto farà parte del nuovo consiglio. A seguito delle nomine ci saranno nuove entrate per chi sostituirà ovviamente gli assessori. E poi parliamo di sport. Scaligera basket. La Tezenis ha ottenuto il pass per la serie A1 dopo 20 anni. Mancava da tanto tempo questa serie, la massima serie del basket. Quindi Verona si prepara per una stagione importante non solo dal punto di vista calcistico con l'Ellas Verona ma anche dal punto di vista cestistico con la Scaligera. E poi parliamo di economia. La Lucense, visti i prezzi folli dell'energia in queste settimane, ricordiamo questa esperienza di 99 anni fa. 26 soci a Lugo, pionieri, nel 1923 decisero di creare una centrale idroelettrica e di creare sviluppo appunto in Valpantena grazie all'arrivo dell'energia. A raccontarci questa storia importante è stato Giordano Veronesi, imprenditore storico del territorio. Lo speciale interno sarà dedicato alla Lessinia. Troverete tanti focus dedicati proprio a questo territorio. E poi come sempre Pantheon Spettacoli Eventi dedicati alla 99esima stagione dell'Opera Festival. che è iniziata e ovviamente ha ottenuto subito un bel successo con l'Arena finalmente in piena capienza anche se l'emergenza Covid non è ancora terminata. Insomma non vi resta che sfogliare digitalmente oppure a livello cartaceo la nuova rivista quando arriverà tra pochissimi giorni. Nel frattempo godetevi appunto la versione online. e noi ci vediamo ad agosto con lo speciale Pantheon Obiettivo Sostenibilità. Sarà un numero particolare lo vedrete ma ne parleremo più avanti. Intanto buon proseguimento di giornata.